C'è un tir di maiali. Questa mi fa rite, intimamente mi fa rite. Un tir di maiali che stanno pieno, 200 maiali, senza tendone, che stanno tutti all'aria e l'audista di questo tir è un pazzo, perché il tir cammina, va a 120 e a 120 tutti quanti i maiali con il naso aggrappati. Questa fa una curva a 150 anni, i maiali si aggrappano ai codini di quelli che cosi, poi se li mettono lì le setole che gli volano così qua, ma che fa, ma che scema, guarda, 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 guarda. Vai in salita, in salita, fa una frenata a tutti i maiali, vai in discesa, 120, 130, 140, 160, 180, se rompono i freni, va a sbarte contro un arbero tutti i maiali, chi vuole di qua, chi vuole di là, chi su un ramo, uno sta là per terra, stava guardando, si arriva a te e fa... Qua per esempio c'è una tecnica, perché non si può raccontare, se non volete raccontare, se non prendete bene il fiato, se non espirate bene prima di dire la battuta del maiale, perché se tu respiri, metti, fai... non te vieni, invece devi espirare... allora te vieni, se non te vieni... Pagala bene la voglia... EW!